Fra poco veramente il terzo mondo verrà a evangelizzare noi, noi siamo andati lì per fare altre cose, andiamo lì per dare aiuti, chi ci va e ci preoccupiamo della fame nel mondo, ma dal punto di vista spirituale questi fratelli del terzo mondo stanno mangiando molto più di noi e senza i problemi di ingrazzare, stanno mangiando spiritualmente, stanno crescendo, stanno sviluppando, però questo non deve servirci per dire va bene, corrono loro, vincono loro, gareggiano loro e quindi lasciamo che corrono solo loro. E' vero che anche nella corsa gli atleti più grandi sono quelli più forti dal punto di vista atletico, sono quelli che derivano dall'Africa, gli africani perché hanno delle gambe come gazzelle e corrono e quando li vedete correre sembrano, ma Dio ha chiamato tutto il suo popolo a correre. E la parola che sento di base per questa piccola riflessione di questa mattina è correre, correre. E non correre in bagno, ci sono persone che corrono semplicemente quando devono andare in gabinetto, devo andare subito, non correre alle ultime offerte, agli ultimi saldi, non correre a tutte le cose che, ma correre la corsa di Dio. E noi, tu, io, siamo stati chiamati a correre la corsa più bella, la corsa più grande, tante volte ci sono tanti film, la corsa più pazza del mondo, la corsa... E si vedono tutti questi che corrono per andare da qualche parte e raggiungere chissà quale trofeo, stupidaggine. La corsa che Dio ti ha messo davanti è una corsa verso la gloria. Ed è bene che tu lo capisca questa mattina, perché se no finirai per correre verso il male e per rallentare nella strada della vita, nella strada della gloria. Partiamo da un verso in ebrei, lo scrittore della lettera agli ebrei, il capitolo 12, sapete che è un capitolo che tutta quella parte parla della fede, dei testimoni di fede, e leggiamo dal verso 1. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso, che non significa mettiamoci a dieta, è il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta per la gioia che gli era posta dinanzi e gli sopportò la croce, disprezzando l'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato, ci fermiamo qui. Ma un attimo, ritorniamo all'inizio di questi meravigliosi versetti. Anche noi, anche noi, dicevo è bello vedere gli altri correre e vincere, e spesso nel mondo in cui viviamo sembra che quasi ci si glori delle vittorie degli altri. Ieri molti si sono gloriati della vittoria della nazionale italiana contro i Galli del Galles. Ed è una cosa buona gloriarsi delle vittorie degli altri, identificarsi in qualcuno e fare il tifo. Non è una cosa malvaggia, il problema è quando noi pensiamo che devono vincere semplicemente gli altri. E quindi, come a dire basta che vince la mia squadra, il Palermo, allora non ha importanza che io vinco la pace nella mia famiglia, non ha importanza che io vinco il mio peccato, non ha importanza... Tante volte soddisfiamo il nostro desiderio di vittoria, proiettandolo nelle squadre, nelle altre chiese, negli altri persone, nei grandi ministeri. Diciamo, quello ha vinto, quello ha fatto un'evangelizzazione incredibile. Billy Graham, Reynard Bonk, Benin, eccetera, eccetera. Potremmo citare tanti altri, nel mondo sia protestante, nel mondo cattolico. Padre Tardif, eccetera, eccetera. Quelli hanno vinto, e facciamo il tifo, come è forte, come è grande. Ma la scrittura ci dice che i testimoni che abbiamo intorno, cioè le persone che stanno correndo, che stanno vincendo, lo fanno per loro, ma lo fanno anche per darci un esempio, perché noi lo imitiamo, non per applaudirli, per dire bravo, come sei forte, come corri bene, come gareggi bene, fratello, sorella. Circondati da un così grande schiera, da un grande nuvolo, da una grande compagnia di testimoni, l'esortazione di questa mattina è poiché ci sono persone che possono vincere, poiché ci sono persone che possono sconfiggere, poiché ci sono persone che possono arrivare alle prime posizioni della gara, non devi solamente dire oh che bello, ti metti alla televisione e guardi veramente quelli che vincono e vengono premiati. No, tu sei stato chiamato a correre, tu sei stato chiamato a vincere, tu sei stato chiamato a gareggiare, tu, proprio tu e quindi per gareggiare, per correre, per vincere come questi testimoni di fede dobbiamo devorre ogni peso. Voi immaginate uno che si mette a correre portandosi il tascappane, i libri, magari si porta pure in braccio qualcuno e deve fare una gara così. Quanti metri può fare? non potrà andare molto avanti. Dio ti ha chiamato per correre e per correre hai bisogno di liberarti di quelle cose che sono un peso e quando diciamo di quelle cose che sono un peso non stiamo parlando dei familiari, non stiamo parlando delle persone, perché molti hanno pensato che liberarsi dei pesi significava liberarsi di tutti quelli che erano diversi, di tutti quelli che la pensavano diversamente e poi hanno scoperto che questa corsa, anche se fatta da soli, non si può fare nel conflitto, nella tensione, nel giudizio, nella critica. quindi è una corsa in cui bisogna liberarsi dai conflitti, dalle tensioni, perché sono queste cose che ci possono bloccare. Se vogliamo correre non c'è nessuno che ce lo può impedire tranne noi stessi, tranne i nostri pesi, tranne quelle cose che abbiamo lasciato che nella nostra vita ci appesantissero, l'apatia, l'indolenza, l'indifferenza e infatti qui lo scrittore lo specifica meglio, deponiamo ogni peso e il peccato in realtà il peso ci è dato dal peccato, dal fallimento deponiamo questo peccato che così facilmente ci avvolge credo che sia molto realistica questa immagine io vedo veramente i cristiani che al via quando c'è lo starter pronti, partenze tutta una preparazione poi c'è la partenza partenze brucianti e forse anche tu anche io sono partito con una partenza bruciante però piano piano durante la corsa cosa succede? Cominciano gli ostacoli è una corsa ad ostacoli cominciano le difficoltà cominciano i pesi cominciano le cose che non vanno e allora si comincia a rallentare si comincia a rallentare si comincia a rallentare fino a che qualcuno persino si ferma ma siccome noi dobbiamo correre in qualche direzione o corriamo verso la gara di Dio o correremo verso il male per cui quando ci cominciamo a fermare quando non abbiamo più presente la direzione quando non vediamo più la meta dove stiamo andando prima rallentiamo poi ci fermiamo e poi cominciamo a correre in un'altra direzione e questo è drammatico fratelli perché Dio ha che tutte le strade che non vanno verso Lui sono strade di distruzione di morte quindi deponendo ogni peso e non c'è un peso che non puoi deporre qualcuno dice ma io il mio peso come faccio a lasciarlo come mi posso liberare dall'amarezza sono stato troppo ferito come posso liberarmi dalla rabbia mi sono arrabbiato troppo sono stato troppo deluso come faccio a correre ma Dio dice lo puoi deporre questo peso lo puoi deporre perché ti impedirà di correre la gara più bella del mondo quella verso la gloria corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta corriamo con perseveranza qualcuno dovrebbe scriverselo qua corriamo con perseveranza non una gara automobilistica non una gara di qualunque altro genere non una gara di intelligenza non una gara per essere il migliore in certi quiz non una gara di fortuna non una gara di azzardo ma corriamo con perseveranza la corsa che Dio ci ha messo davanti la gara che ci è stata proposta fratelli siamo stati iscritti in questa corsa forse non lo sai tutti siamo iscritti quando abbiamo ricevuto Gesù abbiamo cominciato a correre ma se ci fermiamo se non siamo perseveranti nella corsa non arriveremo dove Dio ci vuole portare nel Cantico dei Cantici c'è un versetto molto bello che ci fa capire come abbiamo bisogno di essere coinvolti in questa corsa nel capitolo 1 verso 4 dice così voi sapete che è tutta una similitudine tra Cristo e la Chiesa oltre l'amore tra un uomo e una donna e dice attirami a te noi ti correremo dietro però attenzione attirami a te a chi lo diciamo noi perché se lo diciamo alla televisione attirami a te e noi ti correremo dietro saremo 24 ore al giorno magari con la scusa di una trasmissione cristiana vediamo 5% trasmissione cristiana 95% di stupidaggini poi facciamo un bilancio sarebbe meglio non guardarla a questo punto perché il peso di quelle cose negative ha superato di gran lunga quelle cose da cui ci siamo lasciati influenzare attirami a te e noi ti correremo dietro a chi lo diciamo una ragazza attirami e io ti correrò dietro a chi lo diciamo a un ragazzo attirami e ti correrò dietro a chi lo diciamo al lavoro attirami lavoro attirami come mi devi attirare con un guadagno di almeno 5.000 euro al mese e io ti correrò dietro attirami a chi lo diciamo allo sport a chi lo diciamo questo è importante fratelli perché se noi non lo diciamo alla persona giusta alla cosa giusta noi ci troveremo a correre in direzioni sbagliate e credo che già ognuno di noi ha fatto un'esperienza di questo genere di essere attirato di essere preso da tante cose e correre 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 e non arrivare da nessuna parte tranne che a un minimo dall'inferno attirami a te e noi ti correremo dietro è bene e rivolgere questa preghiera al nostro signore è bene che nella tua vita è bene che nella tua giornata tu possa cominciare a mettere in moto questa richiesta signore attirami a te attirami a te come a dire voglio che tu sia il centro della mia vita e allora ti correrò dietro perché noi dove corriamo dove c'è il miele dove c'è il dolce dove scopriamo il valore noi corriamo e se non scopriamo che Dio ha un grandissimo valore che il suo regno è il più importante noi correremo da tutt'altra parte e quando c'è da correre nella direzione di Dio troveremo un sacco di scuse sono stanco non ce la faccio c'è freddo c'è caldo c'è la neve c'è il sole c'è la difficoltà ci sono i problemi c'è questo c'è mio marito c'è mia moglie ma io ti voglio dire quando tu corri dietro qualcosa che ti piace c'è qualcuno che ti può fermare c'è qualcuno che ti ferma quando ti devi vedere per forza quella trasmissione che non c'è niente di male te la sei iscritta sul calendario te la sei appuntata ti sei preparato hai fatto la cucina prima hai rassettato tutto perché? perché lì a quell'ora in punto devi essere lì davanti a quel programma magari potessimo avere un decimo dell'attenzione che diamo a queste cose un decimo dico rivolto a colui che è degno della nostra attenzione fratelli attirami a te e noi ti correremo dietro ancora un'immagine simile la troviamo nel salmo 119 verso 32 un salmone un salmo grande questo 119 c'è una ricchezza incredibile se solo potessimo prendere questo salmo solo sarebbe già un cibo incredibile per tutta la nostra vita e al verso 32 dice io correrò per la via dei tuoi comandamenti una versione dice quando mi avrai allargato il cuore o perché mi hai allargato il cuore ancora una volta vediamo che il correre ha a che fare con quello che abbiamo dentro quando ci si allarga il cuore per una ragazza per un ragazzo per qualcosa come corriamo quando ci si allarga il cuore per qualcosa la motivazione viene subito quando ci si allarga il cuore ecco perché Dio dice di vigilare sulle sorgenti del nostro cuore sul cuore perché da esso procedono le sorgenti della vita perché lì a secondo di come si allarga il tuo cuore tu corri in una direzione o corri in un'altra quando mi avrai allargato il cuore signore quando avrai messo nel mio cuore questo desiderio che io ti chiedo di valorizzare te il tuo regno le tue cose la chiesa gli impegni in chiesa la puntualità in chiesa tutto quello che fa parte di un progetto grande di gloria quando tu mi avrai allargato il cuore mi avrai messo il cuore lì io correrò dietro i tuoi comandamenti e vi dico di più che non mi sembreranno neanche più comandamenti perché io non credo che la fidanzata che desideri correre verso il fidanzato lo veda come un obbligo oh che seccatura oggi devo correre dal mio fidanzato oh mamma mia che seccatura oggi mi devo vedere la partita della mia squadra preferita oh per piacere mi devo vedere la corsa che mi interessa tanto nuovo per piacere trovatemi un diversivo no non è un comandamento perché perché l'amore ci porta veramente dove stiamo guardando e questo è un test tante volte nella nostra vita dove vieni portato dove sei più preciso dove sei più puntuale dove sei sempre presente lì è il tuo cuore dove è il tuo tesoro lì è il tuo cuore e Dio vuole fare un'opera nel cristiano perché pur avendo il più grande valore dentro ha cominciato a distogliere gli occhi da questo valore dagli impegni cristiani e si è volto piano piano a tante altre cose che hanno preso il posto e allora cosa fa anzi che correre verso la gara verso la corsa che ci è proposta fa un corsetto di qua tre passi e poi fa come il gambero due passi indietro tre passi a sinistra quattro passi a destra e facciamo due anni tre anni alla fine sembra che giriamo sempre intorno alle stesse cose ma non è possibile perché quando si corre quando si cammina lo scenario deve cambiare perché se tu stai camminando e vedi sempre le stesse cose io mi dico ma stai forse girando intorno a te stesso non stai andando da qualche parte se i problemi sono sempre gli stessi se le incomprensioni sono sempre le stesse se le amarezze sono sempre le stesse vuol dire che non stai correndo vuol dire che ti sei fermata e stai cercando di galleggiare di resistere ma non ce la farai un altro esempio molto bello prendiamo la lettera di Paolo ai Corinzi capitolo 9 verso 24 guardiamo un poco ancora come l'apostolo lo descrive in maniera chiara questa corsa non so può essere che l'apostolo Paolo tra le altre cose fosse pure un tifoso non della squadra di calcio perché allora non esisteva proprio il calcio ma di qualche altro sport non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti ma uno solo ottiene il premio sembrava parlare a delle persone stupide perché è una cosa ovvia che corrono tutti ma c'è uno che arriva prima degli altri eppure Paolo prende questo esempio ancora per fare vedere a te a me questa mattina cosa significa correre nella corsa cristiana non sapete voi quindi che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti ma uno solo ottiene il premio e non solo nello stadio ma nelle corse automobilistiche nelle corse ciclistiche nelle corse di ogni genere nelle maratone in tutte le corse solitamente c'è uno che arriva prima o in qualche modo ci sono le corse di irregolarità non andiamo che si deve arrivare precisi ma c'è sempre un vincitore guardate cosa ci dice correte in modo da riportarlo cioè cosa significa correte correte ognuno di voi deve correre deve imparare a correre come se dovesse vincere non dicendo io mi accontento della penultima posizione e quindi la prendo tranquilla vedo gli altri che sfrecciano vum vum mi dice mi come è veloce questo di qua mamma mia come corre nel Signore magari diciamo ah ora vai così vedi che ti stancherai tra poco vedi così poi io ti raggiungo no dobbiamo correre secondo quello che Dio ci vuole fare comprendere in maniera da riportare il premio e ancora una volta tutto questo ha a che fare con il premio perché se noi non crediamo che esiste il premio non corriamo è giusto? se noi dobbiamo fare una corsa tanto per così né premio pecuniario né premio di gloria né premio di niente ma ti assicuro che dopo che hai fatto i primi chilometri piano piano te ne devi e te ne ritorni a casa nel mente che gli altri neanche se ne accorgono e sembra che stai correndo e tanti cristiani sembra che stanno correndo ma si sono fermati si sono posteggiati hanno rallentato non hanno capito più che c'è una corsa davanti a loro c'è un premio e non stanno tendendo verso questo premio sembra quasi che non gli interessi sembra quasi che sono così umili che dicono il premio lo prendono gli altri io non sono degno di questo premio corri ti dice il signore corri corri non ti fermare corri in maniera da riportare il premio e ancora al versetto 25 dice chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile ma noi per una incorruttibile chi fa l'atleta ritornando alla nostra gloriosa nazionale di calcio sono sempre lì ad allenarsi a palleggiare a fare tutto quello che serve rinunziano a tante cose ma perché lo fanno devono essere temperati magari devono andarsi a coricare presto quando vorrebbero fare la notte in discoteca perché perché stanno concentrandosi per ottenere un risultato quindi l'atleta in senso umano lo fa per una corona una gloria da niente per una medaglietta che poi si appende l'adice nel lontano 1500 lì sono arrivato primo in una gara con la corsa del sacco e tutta la sua vita tutto il suo valore o in tutti quelli che vengono prende questa medaglia e dice guarda primo nella gara con la corsa del sacco tante volte veramente siamo strani ci gloriamo di cose inutili senza capire che Dio ci ha messo davanti una corsa meravigliosa una corsa gloriosa una corona incorruttibile una medaglia eterna per te per me se corriamo la corsa giusta e quindi al verso 26 l'apostolo ancora di più sottolinea questo aspetto e dice io quindi corro così l'apostolo Paolo lo aveva capito e non lo aveva capito perché era intelligente perché la sua intelligenza non gli era servita per accettare Cristo anzi se ricordate era stato buttato giù da cavallo era stato fatto fuori proprio nella sua umanità per incontrare il suo salvatore ma lo aveva capito dentro aveva capito che tutto quello che Gesù era importava di più tutte le altre cose erano spazzatura rispetto alla corsa di Dio in altre parti lo dice e quindi dice io corro in questa maniera corro in maniera da riportare il premio voglio arrivare il primo non mi interessa quello che fanno gli altri voglio correre voglio correre voglio arrivare e lo faccio non in modo incerto io quindi corro così dice non in maniera incerta non corro un colpo di qua un colpo di là poi ogni tanto ci ripenso corro nella direzione opposta corro in una direzione e lì la strada spunta e poi dice lotto al pugilato ma non come uno che batte l'aria anzi tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù perché non avvenga che dopo avere predicato agli altri io stesso sia squalificato immaginate un giocatore che fa un sacco di prediche ai suoi compagni di squadra gli dice dovete fare esercizi dovete correre dovete fare così dovete fare colì e poi quando giocano in squadra si accorgono che lui non ha neanche preparato un minimo di preparazione atletica e poi alla prima corsa cade stecchito sulla sulla sul campo di calcio quindi dobbiamo veramente correre in maniera da riportare il premio e dobbiamo farlo e dobbiamo incoraggiare gli uni gli altri perché nessuno sia squalificato da questa corsa e andiamo alla parte conclusiva di questo messaggio il diavolo che anche lui corre o direttamente o attraverso le persone intorno a voi cercherà di fermare la vostra corsa spirituale questo deve essere chiaro fratelli al diavolo non piace assolutamente che noi corriamo verso la gloria di Dio lui ancora sta soffrendo si sta tormentando perché non siamo corsi all'inferno con lui quindi in qualche modo vuole risucchiarci nel suo inferno vuole bloccarci spiritualmente e quindi lo farà con tante cose intorno a noi le persone direttamente lo scoraggiamento il non farti vedere più la direzione immaginate uno che si mette a correre a un certo punto non vede più il traguardo e dice ma dove corro cercherà in tutte le maniere di fermare la tua corsa ma tu lo sai e ancora questa mattina Dio ti dice renditi conto di questo perché lui verrà e cercherà di fermare la tua corsa spirituale o di cercare di indirizzarla verso corse vane ti dirà ma perché correre verso lì corri subito al supermercato solamente corri qui corri lì corri a destra corri a sinistra corri di qua corri di là e allora vediamo tante persone che sono impegnatissime scorrono da tutte le parti poi quando c'è da correre nella direzione di Dio sono stanche sono stanco ho corso tanto ho corso tanto vanità vanità diceva l'ecclesiaste vanità delle vanità tutto è vanità questo sapete come si definisce è un correre dietro al vento io non so se qualcuno ha questo piacere di cominciare a correre intorno al vento sì per un po' può essere anche piacevole corri di là il vento gira di là corri di qua corri di là dopo di che ti stanchi ti affatichi ma non serve a niente non sei neanche uno di quei apparati tipo che si chiamano mi ricordo che attraverso il vento producono elettricità attraverso il vento non produci niente fai sudore consumi energie è un correre inutile se il tuo correre è di questo genere e l'apostolo Paolo ancora esorta in Gala di 5 e 6 e lì qualche cosa di brutto aveva fermato la corsa di questi credenti e dice infatti in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione come a dire non è l'aspetto formale quello che conta non è l'aspetto esteriore non è la maglietta della squadra che ti metti che ti farà diverso non è che perché uno è una schiappa si mette la maglia della Juventus diventa super o del Milan o di qualche altra squadra non è perché ti metti la maglia di una chiesa o dell'altra chiesa o di una forma o di un'altra forma questo ti potrà cambiare quindi non è la circoncisione l'incirconcisione quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore e poi al verso 7 voi correvate bene ragazzi voi correvate bene chi vi ha affermati chi vi ha affermati perché non ubbidiate alla verità chi vi ha affermati voi correvate bene e alcuni cristiani corrono bene all'inizio forse anche tu hai corso bene per un periodo della tua vita hai corso mettendo delle priorità hai corso fortemente nella direzione di Dio ma poi chi ti ha affermato chi vi ha affermati perché non ubbidiate alla verità capitolo 4 verso 1 parla di Cristo credo che sia stato altro che Manuel Fangio o tutti i vari Ayrton Senna io credo che Gesù sia stato il corridore più forte il corridore l'atleta più grande dell'universo anche se non ha mai gareggiato in una gara pubblica la sua vita era una corsa una corsa verso il progetto del padre una corsa verso la gloria una corsa verso la tua salvezza lui correva sfidando i pericoli sfidando le difficoltà per che cosa? per la gioia di vedere Franco Antonio Vincenzo Daniela liberi per questa gioia lui correva il premio che aveva Gesù davanti eravamo noi lo capite questo? e qualcuno avrebbe detto mi bello premio e invece era un bel premio perché lui ci vedeva nella luce di quello che potevamo essere in Cristo uomini nuovi donne nuove persone capaci di portare la benedizione intorno poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne anche voi armatevi dello stesso pensiero che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato su questo verso non ci fermiamo ma c'è una grande una grande lezione cioè nella sofferenza ci può essere o un peccare di più o un rinunziare al peccato quindi nella sofferenza nelle difficoltà che incontrerai quando corri puoi o prenderti più pesi e quindi bloccarti di più o liberarti del peccato come abbiamo letto all'inizio che facilmente ti avvolge quando soffriamo ci sono due modi di reagire uno ci alleggerisce e ci fa crescere l'altro ci inchiumma e ci fa ancora di più fermare e ci fa rimanere bloccati cosa ha fatto Gesù? Ha fatto questo verso 2 per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne non più alle passioni degli uomini ma alla volontà di Dio e qui vediamo veramente uno stile nuovo di vita in cui il cristiano decide come il suo maestro di consacrare il tempo che gli rimane non più alle passioni degli uomini non più a tutte le storie più assurde ma alla volontà di Dio come a dire Signore io voglio fare la tua volontà basta verso 3 con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani vivendo nelle dussolutezze nelle passioni nelle ubriachezze nelle orge nelle gozzoviglie nelle illecite pratiche idolatriche e chi più ne ha più ne metta basta nell'avere consacrato la tua vita correndo in direzioni sbagliate basta basta ora basta ricordate il fratello Capù ora basta basta con l'essere stati dominati dal male basta e infatti dice per questo verso 4 trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi ma come non corri con me da una prostituta ma come non corri con me verso questi obiettivi strani ma come non corri con me verso tutte le cose cosa dovrebbe dire il cristiano io sono impegnato in un'altra corsa non ho tempo da perdere io sto correndo una corsa gloriosa non ho tempo di andare non solo tempo ma non voglio rominarmi correndo dietro a tante cose stupide dietro le quali la maggioranza del mondo sta correndo dietro al successo dietro all'idolatria dietro a tutte le cose più strane il mondo corre e dice ma come non corri con me ma perché non corri con me e parlano male di voi perché non correte verso il male chi li ispira se non il diavolo parlano male di voi perché non non correte verso il male ma attenzione se tutti parlano bene di voi disse una volta Gesù perché lo facevano anche voi falsi profeti se tutti vi dicono che bravo che buono vuol dire che che voi siete troppo accondiscendenti che voi potete dare ragione a tutti tranne che a Dio tante volte si arriva a questi paradossi ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti ci alziamo in piedi ultimo verso Paolo scrive al suo figlio Timoteo figlio spirituale e dice capitolo 4 verso 6 quanto a me era il grande apostolo Paolo uno dei più grandi corridori dopo Gesù si era messo lì Gesù davanti e lui una saetta lo voleva seguire tutto quello che lo impediva via questo via questo io sono stato afferrato da Gesù e lo voglio afferrare una corsa incredibile perché poi fratelli quando cominciamo a correre sentiremo l'amore di Dio sentiremo un fuoco trascinante fino a che camminiamo passeggiamo non sentiamo l'attrazione ma mano a mano che l'amore cresce sentiremo una calamita fortissima che ci fa correre Paolo la sentiva e diceva quanto a me io sto per essere offerto in libazione cioè in sacrificio e il tempo della mia partenza è giunto lui stesso voleva correre presso dal Signore diceva che andare col Signore era cosa di gran lunga migliore però se posso stare qua e essere utile a voi allora rimango no se posso stare qua e vedermi l'ultima puntata di vattela pesca no Signore ti prego non mi prendere prima che finisca il campionato di calcio voglio vedere che fine fa la nazionale voglio vedere no Signore no non era questo che lo tratteneva su questa terra non era un affetto umano non era qualche cosa di incompiuto era il fatto che sentiva un amore grande per la Chiesa per gli altri e diceva Signore se io devo restare qua essere utile io resto però se no me ne vengo con te perché si sta molto meglio con te io so io tutta la vita ho puntato verso di te non ci voglio stare più su questa terra voglio venirmi a riposare con te e era lì pronto a dare la sua vita il tempo della sua partenza era vicino gli era stato detto che sarebbe stato a Roma sarebbe morto a Roma si stava avverando questo progetto e poi dice al verso 7 ho combattuto il buon combattimento alleluia ho combattuto il buon combattimento sì ho fatto tante battaglie perse però a un certo punto ho cominciato a combattere il vero combattimento e tu hai bisogno di combattere il vero combattimento e poi dice ho finito la corsa alleluia ma nessuno di voi può dire questo momento ho finito la corsa perché qualcuno non l'ha neanche cominciata quindi già la volete finire prima di incominciarla corriamo ma Paolo ci dà questo esempio di qualcuno che ha lottato ha vinto è passato attraverso cose incredibili persecuzioni lapidazioni quasi steso a terra proprio digiuni tremendi situazioni incredibili ed era il grande apostolo correva 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 perché aveva visto un obiettivo degno della sua vita di tutta la sua vita ho finito la corsa ho conservato la fede e questo è importante perché nella corsa la tua fede sarà testata la tua fede sarà approvata ci saranno dei momenti in cui non vedrai niente e Dio dice corri lo stesso e la fede è lì funziona cresce e poi versetto 8 l'ultimo ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore giusto giudice mi assegnerà in quel giorno e non solo a me ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione e io lo traduco diverso non di quelli che avranno amato la sua apparizione standosene fermi davanti al televisore dicendo quando appare il Signore quando appare come uno spettacolo mediatico così che deve impressionarti no ma quelli che proprio perché amano la sua apparizione hanno corso corso hanno speso e sono stati spesi per gli altri hanno messo veramente questo obiettivo davanti a loro perché ci hanno creduto veramente e amano veramente vederlo perché lo stanno già vedendo perché stanno correndo con lui dietro di lui perché stanno correndo 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 e allora la corona poi viene alla fine della corsa il coronamento sì ci saranno dei momenti di vittoria ci saranno momenti in cui vedrai che la tua corsa produce dei frutti ma la vittoria suprema sarà quando la corsa finirà e vedrai lui e conoscerai come sei stato conosciuto ci credi fratello ci credi sorella e allora voglio vederti cominciare a correre voglio vederti cominciare a prendere sul serio quello che dice la parola di Dio Dio vuole vederti correre verso le sue opere preparate che si chiamano impegno nella cellula che si chiamano pulizie che si chiamano decima che si chiamano come si chiamano non ha importanza ma sono opere che Dio ha preparato nella sua corsa sono percorsi obbligati c'è una specie di caccia al tesoro con delle parti preparate non puoi fare la tua corsa è la sua corsa che devi fare perché la sua corsa ti porta a lui vuoi correre col Signore o vuoi correre continuamente ancora con i tuoi pensieri con le tue idee andando a zonzo battendo l'aria correndo in maniera incerta e non facendo nessuna strada e rimanendo una persona che non ha né le cose del mondo né le cose di Dio proprio la posizione peggiore vuoi fare così essere proprio tra i tiepidi è brutto quello che Dio dice di tiepidi corriamo corriamo quando mi avrai allargato il cuore io correrò dietro i comandamenti tuoi attirami a te e noi ti correremo dietro e ora che facciamo la santa cena vogliamo veramente Vincenzo vogliamo prepararci a esprimere questo desiderio al nostro salvatore a voler mettere veramente questa priorità di essere attirati da Lui per correre e riconoscere le sue opere attiraci a te e noi ti correremo dietro signore attiraci a te oh signore e noi ti correremo dietro attiraci a te signore 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 ti vogliamo pregare ancora in questo momento prima di accostarci a questa menza prima di prendere il corpo il sangue prima di entrare in questo meraviglioso mistero di questi elementi spirituali di questa vita tua donata per noi signore vogliamo riconfermarti il nostro desiderio di correre verso di te signore con te attraverso di te e se ci sono stati altri traguardi se ci sono stati altri obiettivi nella nostra vita se ci sono state altre cose che hanno distorto hanno distorto i nostri occhi dalla corsa vogliamo che questa mattina tu ancora apri i nostri occhi per correre con te signore per correre verso di te per correre alle tue opere signore a tutto quello che hai preparato per ognuno di noi e nel mentre ancora che ci accostiamo prendendo il pane prendendo il vino prendendo il corpo prendendo il sangue signore vogliamo prendere l'obiettivo vero della nostra corsa sei tu signore sei tu capo compitore della nostra fede sei tu il nostro obiettivo questa mattina signore grazie a tutti grazie a tutti